Nel clima di gioia, tipico di questo tempo natalizio, desidero annunciare che dal 24 al 26 maggio prossimo, a Dio piacendo, compirò un pellegrinaggio in Terra Santa. Il scopo principale è commemorare lo storico incontro tra il Papa Paolo VI e il patriarca Atenagora, che avvenne esattamente il 5 gennaio come oggi, di 50 anni fa. Le tappe saranno tre, Amam, Betlemme e Gerusalemme. Tre giorni. Presso il Santo Sepolcro celebraremo un incontro ecumenico con tutti i rappresentanti delle Chiese Cristiane di Gerusalemme, insieme al patriarca Bartolomeo di Costantinopoli. Fin da ora vi domando di pregare per questo pellegrinaggio, che sarà un pellegrinaggio di preghiera.